Buongiorno, il mio nome è Antonio Monda e come prima puntata di Central Park West voglio parlare di premi Nobel. Pochi giorni fa sono stati assegnati i Nobel e in particolare il Nobel per la letteratura e quest'anno il premio è andato ad Alice Mugo. Sono tanti i motivi per cui dobbiamo esultare. Alice Mugo è una straordinaria scrittrice, è una donna e solo 13 volte in 106 anni ha vinto una scrittrice ed è anche un'autrice di short stories, cioè di racconti. Rarissimamente l'Accademia ha premiato degli autori di racconti. Mi viene in mente Ernest Hemingway, che però ha scritto anche romanzi, mi viene in mente Isaac Singer, a sua volta ha scritto anche romanzi, ma entrambi hanno dato il meglio nell'arte del racconto e la Murrow è una eccellente autrice di racconti, sensibile, raffinata, estremamente attenta alla psicologia degli uomini e delle donne della sua terra, del Canada. Eppure, insieme a questi motivi di festa per chi ama l'arte e la letteratura, ci sono tanti motivi per cui bisogna criticare fortemente e aspramente l'Accademia Svedese. Com'è possibile che in 20 anni non sia stato premiato un autore americano? L'ultima ad essere stata premiata è stata Tony Morrison nel 1993, esattamente 20 anni fa, e onestamente c'è da chiedersi se quel premio si è andato più ai temi trattati da questa brava scrittrice che all'effettiva qualità letteraria. Dico questo perché in 20 anni sono stati ignorati, completamente trascurati, Philip Roth, Corman McCarthy, Don De Lillo, Thomas Pynchon, giudicati giustamente da Harald Blum come i quattro più grandi scrittori del mondo. L'Accademia Svedese vuole farci credere che nei 20 anni che sono passati dal 93 al 2003 i 20 premiati siano tutti superiori a Roth, McCarthy, Pynchon e De Lillo? Non posso credere che loro credano che la Jelinek o l'Ecclesio siano superiori a questi nomi. Quindi c'è da chiedersi, e ho fatto solo due esempi, quindi c'è da chiedersi se la scelta sia extra letteraria, sia dovuta a motivi di correttezza politica. Roth è stato accusato ripetutamente di essere un antisemita, lui un ebreo, o di essere misogino. Se fosse così sarebbe gravissimo, perché l'arte non deve essere né politica né tantomeno corretta. E com'è possibile che ogni volta che viene premiato un autore segnato politicamente in un modo, l'anno dopo quasi come una forma di compensazione viene premiato un autore con idee completamente diverse. È successo anche a un italiano. Nel 1958 viene premiato Boris Pasternak, perseguitato da Stalin. L'anno dopo vince Salvatore Quasimodo, eccellente poeta. Ma anche in quegli anni si pensò è stato premiato in quanto un autore di idee opposte a Pasternak o perché veramente era il più grande poeta del momento. Perché non Ungaretti, per esempio? Troppe volte le scelte hanno escluso dei giganti. Penso a Nobukov. Anche in quel caso è stata una scelta dovuta ai temi scabrosi che ha trattato? Un'esclusione dovuta al fatto che alcuni l'hanno accusato di pedofilia? E cosa dire di Orge Luis Borges, uno dei giganti della letteratura del Novecento, completamente ignorata? Troppe le scelte, troppe le svilste, troppe le esclusioni, troppa la correttezza politica. Quindi oggi mi unisco a chi esulta, celebra e brinda alla salute della grandissima Lismudo e sono tre primi ad accusare e a puntare l'indice contro l'Accademia svedese. Un saluto da Central Park West.